Anche la seduta di rifinitura in vista del Chievo questa mattina è durata all'incirca 1 ora e 30 minuti. Una seduta di allenamento molto intensa voluta dalla mister che ha deciso di suddividere in più gruppi i neroazzuri. Lui che contro la formazione clivense si affiderà allo stato, alla condizione fisica di alcuni giocatori. È vero, si può parlare di turnover perché ci saranno dopo l'impegno con il Chievo anche Atalanta e Juventus. Ma in questo momento è fondamentale che risponda sul campo chi sta bene. Quindi le scelte rinviate alla mattinata di domani. Torniamo però all'allenamento perché come vi dicevo la squadra è stata suddivisa in gruppi. Tante esercitazioni sulla tecnica, sulla tattica ma anche sul possesso palle. Poi come sapete non può mai mancare la partitella conclusiva. A parte hanno lavorato ancora gli indisponibili che ovviamente per diversità di tempi di recupero stanno svolgendo le sedute personalizzate. Sono Coutinho, Forlan, Poli, Ranocchia, Samuel e Viviano. Quest'oggi erano assenti al centro sportivo Angelo Moratti per la seduta di rifinitura. I giovani ovvero Lorenzo Crisettice, Davide Faraoni e Tornaghi che sono scesi in campo invece alle 14 nel derby primavera vinto dalla formazione di mister Stramaccioni. Ma ovviamente ne parlerete all'interno del notiziario più avanti. Direi che per quanto riguarda le news dal campo è tutto. Ovviamente non resta che giocare la sfida tra Inter e Chievo in programma domani alle ore 15 allo stadio Meazza. Per tutte le altre notizie e i convocati della sfida contro la formazione di Di Carlo consultate il canale 232 di Sky Inter Channel.